Ciao, sono Marco e sono un pizza chef di Utrex. Quando ero piccolino, io iniziai a lavorare per una pizzeria napoletana e vedi il pizzaiolo, un rumore grande con due mani grandi, e mi innamorai di lui quando faceva la pizza. E da lì, alla tenera età di quasi 15 anni, cominciai a prendere il mestiere del pizzaiolo. E il pizzaiolo mi disse, quando farai questo mestiere, lo farai per tutta la vita, dovrai farlo con amore e con passione. Io mi trovo in Olanda perché amo la città, amo il paese, amo Utrex. Mi piace l'Olanda, mi piace la civiltà, come vivono, lo stile di vita. L'Olanda Il mio lavoro mi piace un po' di tutto perché questo è la mia ragione di vita, lo faccio con amore, passione e tanto sacrificio che sono penso gli ingredienti fondamentali per la riuscita di un buon prodotto. Il mio lavoro mi piace un po' di tutto perché questo è il buon prodotto dell'UNESCO la pizza navurana, diciamo che va fatta con una certa rulla e un certo amore. Va curato in tutti i minimi dettagli, dalla pasta alla lievitazione 48 ore, all'idratazione della pasta, alla stesura della pasta e per finire alla cottura della pasta. Grazie a tutti.